Facciamo un altro pezzo. No, no, io devo andare. Dai, amico, su, facciamo qualche cosa che dà la carica. Qualcosa che dà la carica? Forza! Va bene, questo è un pezzo un po' vecchio. Beh, ecco, è un pezzo un po' vecchio dalle mie parti. Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok? Ehi, Giorgio, dicono che hai steso Biff. Bel colpo! Giorgio, ti vogliamo leggere a capoclasse! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny, go! Chuck! Chuck! È Marvin! Tuo cugino, Marvin Berry! Sai quel nuovo sound che stai cercando? Bene, senti questo! ! Questo è il giro! Questo è il giro! Chi aut tek O cosa è il giro! Tutti questo! Buongiorno! E il giro! Questo è il giro! O cosa è il giro! Grazie a tutti. Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.